Sfrutta anche tu l'anticiclone africano. Pratica Asfasang, il nuovo sport dell'estate, asfalto e sole. Si pratica da luna alle tre del pomeriggio, negli giorni più caldi dell'anno, nelle tre pratiche versioni in discesa, in piano e in salita per gli agonisti. Vuoi perdere liquidi? Vuoi dimagrire? Vuoi espiare qualche colpa? Asfasang è il nuovo sport dell'estate 2019. Pratica anche tu Asfasang.